i suoi bisogni. E fa i suoi bisogni. Ma come sarebbe? A sentire te è come se andasse di corpo quando fa l'amore. Beh, a me pare così. Oddio, Missili. È come se fossi ancora vergine. Sì, perché nessuno al mondo mi ama. Io ti amo. Hai detto che sono brutto. No, non è vero. Sei brutto. Dio, che brutto che sei. Brutti. Amen. Oh, Missili, era solo per mettere aceto nel miele. Perché ero gelosa di te, Albert. Io invece ti trovo bella. Ma come si è andata. Grazie a tutti.